buongiorno a tutti sono stefano laurenzo di tp link sono national account manager per l'italia e oggi a barcellona vi presentiamo la nuova famiglia della serie c che si chiama neffos serie c7 la serie c7 prende diciamo il posto della vecchia serie c5l c5a e c5 max con la nuova generazione di telefoni neffos continua sempre di più a lavorare sul sulla miglioria dei materiali delle specifiche e oggi con il c7 abbiamo un prodotto con un materiale di metallo come potete vedere di buona fattura fig and print per le impronte digitali per la sicurezza dei dati poi abbiamo uno schermo in hd da 5 pollici e mezzo 2 giga 16 giga e abbiamo un processore d'octacore da 1.5 il telefono monta un android 7.0 di ultima generazione aggiornabile ad oreo nel momento in cui uscirà la nuova versione ed è un android puro un'altra cosa molto importante che stiamo facendo per differenziarci un po dei nostri competitor stiamo lavorando anche sul post vendita un altro punto importante sul quale abbiamo lavorato diciamo una noi la chiamiamo la casco cos'è praticamente nei primi due anni di acquisto del telefono a 159 99 quindi senza spendere un euro in più per i due anni di garanzia il primo danno accidentale quindi mi si rompe il vetro il primo danno accidentale neffos lo tratta come una garanzia e non un fuori garanzia quindi vuol dire che il vetro la riparazione e tutto il lavoro che c'è dietro viene rimborsato da neffos quindi l'utente finale non spende niente dal secondo danno accidentale e per i due anni di garanzia se succede qualcosa al telefono neffos farà un preventivo per quanto riguarda solo il corriere nella presa e della restituzione del prodotto e la mano d'opera il vetro rimane se fosse il danno del vetro rimane sempre a spese di neffos questo è un punto che noi riteniamo importante anche perché il telefono come ben sapete lo teniamo in mano tutto il giorno uno strumento che usiamo e può capitare che si possa che possa accadere si possa rompere quindi questo diciamo che è un un punto dove quest'anno con la nostra nostra azienda nostra il nostro partner infomec stiamo lavorando e stiamo mettendo a punto diciamo per poter dare un supporto migliore ai nostri clienti il telefono sarà disponibile nel nei negozi dal mese di marzo a 159 99 crediamo che sia un un ottimo prodotto e siamo riusciti a lavorare sulla qualità e sul sul prezzo